Ok, benvenuti a questo webinar dedicato alle soluzioni industriali di switching, ma anche a qualcosa che va oltre, perché vedremo sostanzialmente anche, parleremo anche di router, parleremo anche di futuri access point, perciò è una presentazione più che altro a 360 gradi sulle soluzioni industriali, e perciò nella prima parte parleremo di switch, poi nella seconda parte invece ci focalizzeremo un po' più su altri tipi di soluzioni. Il motivo delle soluzioni industriali è noto, è quello di essere utilizzato in applicazioni particolari, ad esempio come l'automazione industriale, la smart city surveillance o i sistemi di trasporto intelligente, in pratica in tutti quegli ambienti, in tutte quelle soluzioni, dove una soluzione tradizionale di switching, o barra routing, o access point, sostanzialmente non può essere utilizzata perché ci sono delle limitazioni, e di conseguenza bisogna optare su delle soluzioni differenti. Quali sono i motivi per cui si scegliono poi queste soluzioni? Sono legate a una serie di elementi, prima tra tutte sicuramente il range di temperatura esteso, che può variare da meno 40 a più 75, per cui adatti per ambienti totalmente differenti rispetto a dei switch tradizionali, altra cosa importante sono appunto l'hardware, che è un hardware differente, sempre più robusto rispetto a una switch tradizionale, e oltre all'installazione che può avvenire appunto su barra d'ina, anche l'assenza di ventole, cioè un'assenza in generale di tutte quelle cose, di tutti quegli elementi che potrebbero creare punti di failure all'interno della rete. Un altro elemento che contraddistingue sempre le switchi industriali è l'alimentazione in corrente continua, cioè si hanno degli alimentatori che possono alimentare le switchi in corrente continua, e di conseguenza possono anche alimentare più di un apparato alla volta, e perciò è previsto una ridondanza nelle soluzioni, permettendo appunto di avere un doppio collegamento verso la parte di alimentazione. Per quanto riguarda invece poi le soluzioni più performanti, parliamo perciò delle soluzioni managed, più performanti dal punto di vista di alcuni elementi che sono quelli appunto legati alla configurazione che questi switchi possono avere, la creazione di VLAN, la creazione di routing tra le varie VLAN, la creazione di anelli, perciò ecco, tutta una serie di elementi che in alcune soluzioni, alcuni permettono anche di avere sostanzialmente una high availability network, per cui di avere una rete che funziona in tutte le condizioni possibili, dando a prevedere tutta una serie di fault che potrebbero avvenire appunto all'interno della rete stessa. Detto questo, andiamo a vedere un po' quali sono le soluzioni switchi industriali per poi passare successivamente agli altri tipi di soluzioni. Attualmente ne abbiamo di quattro famiglie, la serie 300, la serie 200, la serie 100 e la serie 100E, cioè 100G e 100E. Diciamo che partendo dall'altra, la serie 300G è la famiglia, praticamente, layer 3 Lite, per cui ha anche la possibilità di avere l'intervalor routing, ed è la famiglia attualmente all'interno dei link con più funzionalità, cioè quella più completa dal punto di vista della configurazione. La serie 200 è una serie, invece, layer 2, perciò non ha tutta la parte L3 che troviamo nella serie 300. E poi abbiamo due famiglie a manager, devo dire che non hanno nessun tipo di configurazione possibile, sono completamente plug and play, che sono rispettivamente la serie DIS-100G e la serie DIS-100E. La prima è Gigabit, la seconda è Fast Ethernet, mentre le prime famiglie, 300G e 200G, sono tutte e due entrambi Gigabit. Attualmente non abbiamo ancora a listino apparati con porte di aplink a 10 Gigabit, anche se la casa madre sta pensando di inserirli, ma attualmente non ne abbiamo, e perciò la composizione delle porte di queste macchine è fatta di PoE, di porte Gigabit e di porte FIBA. Come sono disposti? Lo troviamo in questa slide, con i vari codici, praticamente abbiamo la serie, tutte le varie serie, e di conseguenza, se ci focalizziamo soprattutto sulla parte DIS-200E, G, DIS-300G, vediamo che abbiamo una serie 12S, che è una famiglia non PoE, con 10 porte Gigabit, più 2 porte SFP, e la 12PS, che invece ha 8 porte Gigabit, più 2 porte Gigabit, più 2 porte SFP. Il range, in questo caso, di temperatura è diversa, rispetto alle altre soluzioni, perché parliamo di un meno 40, 65, relativamente a un meno 40, 75, delle altre soluzioni, con un grado di protezione, è identico per tutte le famiglie, e poi, la cosa cambia anche in funzione dell'alimentazione PoE, perché abbiamo, in questa famiglia qua, DIS-200E, una soluzione più AE, a 240 Watt, mentre poi, se si va sulla serie, DIS-300G, si può vedere anche, che abbiamo una soluzione, da 120 Watt, e una soluzione a 240 Watt, che cambia, in funzione delle porte. per cui, di fatto, poi abbiamo, guardando la serie 300G, abbiamo una soluzione, da 4 porte, Giga, Pt più E, 2 porte, di uplink, una soluzione, da 8 porte, Giga, Pt più 4 porte, SFP, e un'altra soluzione, Pio, con 8 porte, Giga, Pt più E, più 2 porte, Giga, Pt più 4 porte, appunto, SFP. Diciamo, che poi, dal punto di vista installativo, è sempre, barra DIN, o parete, e sostanzialmente vengono venduti senza alimentatore, per cui è necessario aggiungere l'alimentatore relativo. Dal punto di vista degli switch, abbiamo poi deciso di inserire due nuove soluzioni, che si chiamano DISS 100G 6S e DISS 100G 10S, sono due switch unmanaged, ma rispettivamente appunto di 6 e 10 porte. Uno è composto da 4 porte, Gigabit, più 2 porte SFP, l'altro da 8 porte, Gigabit, più 2 porte SFP. E perciò, sono due nuove soluzioni, che si vanno a affiancare, sostanzialmente, alle soluzioni presenti. Notate che, derivano, dal punto di vista installativo, dal DISS 200, perché hanno un range, che va già da, meno 20 a 65, per cui, differente rispetto a quelle precedenti. Infatti, se torniamo, nel rivedere, la slide precedente, noteremo che, in realtà, le altre, appunto, hanno un meno 40, 65, perciò, di fatto, un range differente, rispetto a quello che, abbiamo visto precedentemente, ma, soluzione, comunque, deteniamo molto valide, dal punto di vista del costo, che è una cosa, appunto, e soprattutto, quando andiamo, appunto, a parlare di soluzioni, a manager. Tutto questo, riflette su che cosa? Riflette sul fatto, che ogni macchina, anche se questa slide, è poco visibile, perché, i parametri, sono tanti, ma comunque, ogni macchina, apporta con sé, una serie di caratteristiche, che le fanno essere, compatibili, con alcuni alimentatori, gli alimentatori, ad esempio, sono indicati, nella canella, alimentatore compatibile, più che altri, sono legati, all'alimentazione, più e, che noi, andiamo, appunto, a erogare, all'interno, di questi apparati stessi, di più usato, per esempio, uno dei più venduti, di LinkedIn, sicuramente, è il DIS200G, 12PS, che si nota, essere consigliato, di installare, con il DISN 48048, proprio per, poter supportare, al miglio, i 240 watt, di power budget, per cui, di fatto, in questa slide, non si vede, altro che, il possibile, a combinazioni, tra, ovviamente, lo switch, di riferimento, e l'alimentatore, oltre a questo, vi ricordo sempre, che portano con sé, oltre all'alimentatore, dove trovate i codici, appunto sotto, portano con sé, anche dei mini GBIC, attualmente, abbiamo dei mini GBIC, di tre tipi, a listino, due sono multimodali, e uno monomodale, i due multimodali, hanno un limite, di 550 metri, per il DIS301SX, e, due chilometri, per il DIS302SX, e poi, c'è, il cosetto, tradizionale, un mini GBIC, monomodale, da 10 km, si possono utilizzare, anche mini GBIC, non di questo tipo, ovviamente, ma, questi sono mini GBIC, ottimizzati, anche per l'ambiente esterno, perché, come vedete, hanno possibilità, di avere, di fatto, un range di temperatura, che viaggia da, meno 40, a 85 gradi, per cui, sono quelli, che noi consigliamo, ovviamente, per questo tipo, di installazione. Dal punto di vista, delle caratteristiche tecniche, ma, le parleremo, meglio, domani, a livello di configurazione, abbiamo, che, ogni apparato, che, ha un'alimentazione, rinondata, per cui, è possibile, sostanzialmente, collegarlo, a due alimentatori, diversi, e per avere, appunto, l'alimentazione, appunto, rinondata, e poi, anche i contatti esterni, per alimentare, una radio di allarme, come una sirena, o una spia luminosa. Oltre a questo, vi ricordo sempre, che, appunto, oltre a questo, gli apparati, ad esempio, di 300G, e di 200G, hanno anche, la porta di console, nonostante, siano configurabili, sostanzialmente, via web, è possibile, però, configurarli, anche via console. Normalmente, non viene molto fatto, davvero, perché, l'interfaccia web, è abbastanza semplice, da questo punto di vista, però, insomma, esiste anche questa possibilità. Qua vediamo, la parte di connettorizzazione, dei due modelli, di due modelli, vediamo, per esempio, di due modelli, si vede, la connettorizzazione, dopo i contatti, la parte per gli allarmi, la messa a terra, e inoltre, la porta di console, dove appunto, il cavo, è compreso, nell'interno, della confezione. Per quanto riguarda, la parte installativa, abbiamo all'interno, la possibilità di montaggio, a parete, oppure, montaggio su barra DIM, cioè, queste sono le due modalità, possibili, che diamo in dotazione, appunto, all'interno, dell'apparato. Oltre a questo, vi ricordo sempre, che, gli apparati PUE, in pratica, hanno, la possibilità, di erogare correnti, in funzione, appunto, di quello che è il loro power budget, e perciò, ci sono, dei apparati, dove, sostanzialmente, è possibile, ad esempio, supportare, lo standard 802.3T, e anche lo standard BT, e poi, invece, ci sono degli apparati, dove, invece, sostanzialmente, supportiamo, solamente, l'803F, l'803T, ad esempio, il DIST 300G, 14 PSV, a due porte, per funzionare, a 60 Watt, tramite le porte, 1 e 2, del DIST 314 PSV, ma, in generale, a parte, lo standard BT, su tutti i nostri switch, supportiamo, i due standard, quello, 802.3F, da 15, 4 Watt, e l'802.3T, da 30 Watt, e, giusto per ricordarvi, appunto, è necessario, in banale dirlo, ma, è giusto ricordarla, che serve un alimentatore, che permetta di gestire meglio, la parte di alimentazione, più o e, per evitare, appunto, che ci siano delle problematiche, in fase di carico, se vengono, appunto, utilizzate, tutte le porte, questo è il motivo, per cui, poi, gli alimentatori, più o e, sono spesso, sovradimensionati, rispetto a quello che, sono le esigenze, ma, proprio, per coprire, esattamente, la, la parte, più o meno. Un oltre a questo, tra le varie, mirili di funzione, che hanno, al loro interno, che analizzeremo, appunto, domani, più nel dettaglio, gli apparati, hanno la possibilità, di creare, delle reti ad anello, questo, soprattutto, questo, esclusivamente, ovviamente, nelle macchine, configurabili, cioè, parliamo, perciò, della serie 200, e della serie 300. Nella serie 300, 200, è possibile avere, perciò, la creazione, di anelli, per quanto riguarda il 200, viene utilizzato l'RPS, per cui i tempi, variano, dai 50, ai 200 millisecondi, mentre nel 300G, la funzione proprietaria, e di conseguenza, vanno utilizzati, tutti i 300G, per poter, 300, la serie 300G, per avere, tutta questa funzionalità, però, siamo in tempi, di recovery, ovviamente, intorno ai 20.000 secondi, cioè, inferiore, perciò, di fatto, la creazione, di un anello, e poi vediamo, un po', le varie possibilità, che si hanno, permette, ovviamente, di avere, il duro, i tempi di inattività, della rete, i dati persi, risparmi, in tempi di cabalaggio, perché, ovvio, che si può, entrare, uscire, da una demediata switch, senza dover andare, in una topologia, di tipo star, ecco, questa è una delle funzionalità, che poi, di fatto, all'interno, all'interno, della configurazione, di questi switch, è trainante, cioè, nel senso, che la maggior parte, poi, degli utenti, che, acquistano, soluzioni manager, rispetto, alle soluzioni, non managed, cioè, perciò, un manager, lo comprano, sostanzialmente, per le Burana, e poi, l'altra funzionalità, trainante, sicuramente, è quella della rete ad anello, per la creazione, appunto, di una sicurezza, maggiore, a livello, a livello intermedio, cioè, a livello di infrastruttura intermedia, per poi andare, magari, verso la periferia, con apparati a manager. Se andiamo un attimino, a analizzare, quali sono, le funzionalità principali, presenti nel DS200, perciò, cosa abbiamo? L'RPS, per la creazione, appunto, degli anelli, come abbiamo detto, ma, anche al suo interno, troviamo, il classico, Spanning Tree, ovviamente, con tempi diversi, sempre per la creazione, eventualmente, di una rete magliata, o di un anello. Abbiamo, l'ACP, per fare, i collegamenti, appunto, tra switch, l'aggregazione, di collegamenti, tra gli switch, anche queste, in una CPE standard, per cui, si può utilizzare, tranquillamente, verso degli switch, differenti, no? E poi, diversi tipi di VLAN, che sono, VLAN per porta, VLAN 801Q, VLAN per porta, intendiamo, quelle VLAN, che vengono utilizzate, anche, come VLAN, simmetriche, sostanzialmente, cioè, dove io vado a definire, un certo ipotico, parlano con altre. Oltre a questo, abbiamo la classica, Auto-Serveless VLAN, per la video sorveglianza, la Voice VLAN, la VLAN asimmetrica, che è un tipo di porta, base VLAN, e poi, abbiamo, sostanzialmente, l'IgMP, l'IgMP in looping, per la parte multica, serve andare, l'RDP. Ovvio, che c'è una parte, anche di qualità di servizio, e oltre a questa, abbiamo, una parte di security, legato all'U-back detection, soprattutto, cioè, la proiezione del loop locale, sull'apparato stesso. Il firmware è molto simile, a quello degli apparati di link, per cui, di fatto, anche le funzionalità, che uno conosce, sull'apparati di link, li può tranquillamente, trasportare, configurare, su queste macchine, mentre, il 3D 3C, rappresenta un progetto ad hoc, differente, e per cui, non è equiparabile, rispetto a quello che avviene, appunto, con il 200, a livello di configurazione. Oltre a quello, abbiamo la command line, che è industrial-like command line, per cui, Cisco-like, per intenderci, con comandi del tutto simili, a quelli che, abbiamo visto essere, su altri apparati, e oltre a quello, poi, ovviamente, ci sono altre funzionalità, di diagnostica, di accesso, eccetera, complementari alla macchina. Dal punto di vista, invece, della serie 300, abbiamo detto che, è differente, perché, in realtà, fa parte di un progetto ad hoc, all'interno di link, per cui, si differenzia, rispetto a quello che è la serie 200, ma, ha questo fast failover, al posto dell'RPS, perché è un RPS proprietario, che permette, appunto, di avere tempi, di 20.000 secondi, e diversi tipi di configurazione, più complesse, diciamo, rispetto a quanto si poteva fare, con l'RPS. lo Spanning 3 è sempre prevente, VLAN, ne abbiamo anche qua presenti, è un po' di tutti i tipi, però, si può notare, anche, che c'è l'IP, subnetbase VLAN, per cui, parliamo perciò di, è il double tagging VLAN, Q&Q, private VLAN, perciò parliamo di VLAN, anche, che si evolvono, a livello superiore, e soprattutto, permettono l'intervonal routing, questo vuol dire, che è una macchina, come abbiamo detto, la Year 3. oltre a questo, ha la qualità di servizio, la sicurezza anch'essa, in tutte le varie sue modalità, e, di fatto, poi, ha anche lui, l'industria del light clip, per quanto riguarda la configurazione, e poi, le varie modalità, appunto, per accedere, lo switch, via web, è quella, la maggior parte utilizzata. Dal punto di vista, della configurazione, se la vediamo via web, la pagina di benvenuto, è del tutto similare, diciamo, che, sempre un menu a tendina, da una parte, ci sono le varie funzionalità, cambia che, sulla serie 300G, si vede anche, fisicamente l'apparato, mentre, sulla serie 200G no, e si vede con la connessione, ma poi, a livello di funzionalità, sostanzialmente, a parte, quelle funzionalità, che abbiamo detto, essere particolari, cioè, presenti solo nel 300, ma non nel 200, tipo, appunto, la parte intervonal routing, altre funzionalità, sono, del tutto, similari. Tralasciando, adesso, passando, alla parte, di router access point, che conclude, questa presentazione, vi ricordo, sostanzialmente, che poi, abbiamo due, due apparati, listino di link, a industria 4G, uno si chiama, DVM, trattino, 302CV, e l'altro, DVM 312, 300V, è l'ultimo arrivato, si vede che, un industria 4G, LTE router, dual SIM, wireless LAN, 11N, Wi-Fi, installazione su, barra DIN, insomma, software, multi-WAN, failover, diciamo, che si può dire, che è un DVM 3.2, con la parte wireless, mentre, sostanzialmente, il DVM 3.2, è un apparato, LTE, senza la parte wireless. Oltre a questo, è previsto, in Q2, l'arrivo, di un access point, nucleus connect, sostanzialmente, che supporterà, sarà industriale, questo access point, si chiamerà, DIS-2650P, sarà, 11AC, 2x2, più 2x2, access point, un multi-mime, o wave 2, come vedete, è una T, a livello di più E, temperature saranno, da meno 20, a più 70, due antenne esterne, ombidirezionali, per cui, adesso qui, non si vede una figura, ma, vengono avvitate, sostanzialmente, di fianco alle porte, siano dei contatti, e sarà gestito, centralmente, da nucleus connect software, e il DNH100, il DNH100, è il nostro controller, che gestisce, appunto, di starboard, gli apparati, nucleus connect, come sapete, ma comunque, nucleus connect è software, mentre il DNH100, è il controller, che comprende, all'interno, appunto, il software, e questo sarà, un apparato, appunto, gestito, sostanzialmente, da nucleus connect. Un altro, sales point, in previsione di arrivare, sarà, il DIS3650P, con un apparato, sostanzialmente, da esterno, in questo caso, il PV67, diciamo che, anche quello sopra, non è un apparato da esterno, in realtà, pur supportando il meno 20, tu 60, non ha un grado di protezione, per cui, può, questo DIS2650, DIS2650P, rimanere esternamente, ma va protetto, in modo opportuno, anche se poi, il suo reggio di temperatura, appunto, è meno 20 su 70, mentre, questo apparato, è un apparato proprio, all'esterno, a tutti gli effetti, perché ha un grado di protezione, il P67, come vedete, un ultimo, abbiamo anch'esso, una porta Gigabit Ethernet, una porta, RG45 di console, 802 3T, e, anch'esso, arriverà, insieme, all'apparato, che abbiamo visto prima, due antenne esterne, omni direzionali, qui dove avete montato, e poi, sarà installato, già gestito, sostanzialmente, dallo stesso software. Perciò, alla fine, alla fine, praticamente, le previsioni, ci danno, l'arrivo, di una serie di, un paio di access points, i router, sono già presenti, e poi, man mano, un'altra serie di periferiche, sempre in ambito industriale, cercando di allargare, il più possibile, quello che, la famiglia, delle soci industriali. Bene, come vedete, io, oggi, concluso, questa presentazione, sono presentazioni, oggi, abbastanza brevi, tutto sommato, pillole, che dove parliamo, su alcuni elementi, domani, invece, andando un po' più in dettaglio, sulle configurazioni, sarà una cosa, un pochettino, più lunga, e perciò, se siete interessati a seguire, domani, saranno, appunto, centrati sulla configurazione, effettivamente, della serie 200, e della serie 300, e perciò, agli stessi orari, replicherò, questo tipo di, di presentazione. Ora, io vi ringrazio, se ci sono domande, su questa parte, sono a disposizione, o se no, appunto, vi lascio, e appunto, ci rivediamo domani, per le altre presentazioni, che sono, schedulate, appunto, all'interno di queste due settimane, che stiamo facendo, appunto, di incontri, con i nostri partner, a livello virtuale, proprio perché, non è possibile farlo fisicamente. Ok, direi che domande, non ne vedo arrivare, aspettiamo giusto, qualche, qualche minuto. Ok, beh, allora, vi ringrazio per l'attenzione, stoppo la registrazione.